Capili, questo è il nome dell'operazione, nel loro feudo i casermoni alla periferia di Frosinone, meglio conosciuti come i palazzi dello spaccio, tra Corso Francia e Viale Spagna, 300 tra poliziotti e carabinieri, unità cinofili ed elicotteri a sorvegliare la zona per il Maxi Blitz che ha messo agli arresti 36 persone, la maggior parte delle quali residenti nel capoluogo Ciociaro, due napoletani e cittadini di etnia Rome che dovranno rispondere di associazione a delinquere finalizzato allo spaccio di droga, diversi minori utilizzati nel confezionamento delle dosi. Un'organizzazione ben strutturata, tant'è che interi condomini erano completamente controllati dagli associati con vedette, con telecamere, con anche porte blindate. Un'associazione pericolosissima, non munita di armi, pronte all'utilizzo che abbiamo parte rinvenuto durante le attività di indagini. L'operazione di oggi è il coronamento di quattro anni di un'intensa attività di indagine partita nel 2012. Quando sono stati sequestrati 300 anni di cocaina a una signora di 65 anni incensurata, questo ci ha fatto pensare. Nel 2015, 58 persone arrestate, sequestrati 4,5 kg di cocaina, 115 di hashish, armi, 640.000 euro in contanti e beni immobili. E' la scoperta di una vasta e capillare organizzazione dotata di canali di approvvigionamento consolidati, depositi per la droga e diverse reti di spaccio che rendevano migliaia di decine di euro. La D2 di Corso Francia, strutturata secondo il modello Scampia. Non c'era il contatto diretto tra spacciatore e acquirente dello stupefacente. Questo garantiva l'anonimato sia dell'uno che dell'altro e rendeva naturalmente più difficoltoso il nostro accesso in caso di operazione. La D2 di Corso Francia